Wow, che bei capelli che hai Mario, infatti oggi giocheremo alla modalità di Brookhaven Con i capelli di Mario, quindi sì Mi piacciono i miei capelli Ma bellissimi, guarda Però io farò una bellissima cosa Mi nasconderà... no, cioè tu ti nasconderai e io ti dovrò cercare Ovviamente qua nella zona Assolutamente sì Ma scusa, questo nascondino, tu che hai esperienza di Brookhaven Di solito l'hai mai visto fare? Perché io l'ho visto da Sbrizer E quindi ho detto vabbè No, io no Facciamo come un vero youtuber e prendiamo le idee dagli altri No, allora sto scherzando Oh, nasconditi, veloce Ah, vado subito Non sto guardando, che rotola di palo Vabbè Praticamente, io devo però togliermi sto coso Se no tu vedevi dove sono Anzi, forse sì Anzi, lascia così mi devi vedere dove sono Allora, posso partire? No, no, aspetta un attimo E muoviti Io non sto vedendo, adesso sto guardando tutto sotto Intanto che tu stai Io non sto trovando a nascondigli Madonna Un palazzo qualsiasi, va bene qualsiasi cosa Basta che sia Comunque non si sta nelle piscinette così, eh, ragazzi Cioè nel senso, soprattutto se sei su qui Se non si deve stare nelle piscinette Mi sa che ho trovato qualcosa Cosa hai trovato? Sono invisibile No, dai, non vale, non vale È impossibile che ti trovi Posso dare un indizio? Se sei invisibile però non vale, eh Se vuoi posso sporgere un po' Ok, vabbè, comunque dammi un indizio In quale palazzo sei? In quale palazzo sei? Non sono in un palazzo, sono vicino a un palazzo Ok, ma sei perso Ti vedo, ti vedo molto vicino Ok, quindi Ma, ma, ciao Io ero così No, ma davvero, pazzesco, dai No, vabbè, non ci credo Vabbè, comunque molto bello come nascondino Ora tocca a me Sì, però è notte Come è possibile? Come è notte? Eh, non lo so Modificati, brutto stupido Vabbè, vai Non guardare però Subito Ok, bene Eh, alza il volume nella testa Eh, vado alla fontana Nuoto Comunque vedo che te ne stai sempre più rendendo conto, vero? Sì Del volume Eh, spero Comunque tu vedi sopra la mia testa Cioè, non guardare adesso Non vedo niente Ok, però per sicurezza Dato che non mi fido di te brutto schifoso Toccherò qualsiasi lavoro io possa Così, così No, no, no Via, via Cosa sta roba? Ah, così, ok, perfetto Così e poi così Perfetto Ho tolto Ora non sono più niente Ma Però forse questo è troppo Troppo difficile Quindi entrerò Qua Allora, vai Ti posso dare un primo indizio Ok Io parto Allora, ti posso dare un primo indizio Le persone Possono andarci in questo posto Che quindi Capisci che è sicuramente un posto al chiuso, no? Ovviamente E quindi Se le persone possono andarci in questo posto Dove potranno Un negozio? Un negozio Un Un qualsiasi Cosa Ai mio Dio ti ho pure visto La police Comunque lì nei pressi Diciamo Lì nei pressi Ah ok Quindi sei qui vicino Alza il volume nella testa Perché ti garantisco che non si sta Nell'ospedale Eh Io non ho detto Non ho detto niente io Chi è quella? Quella chi? Quella chi? Quella chi? Aspetta io non sto Ah no Era un lettino Io non sto capendo cosa stai dicendo Cioè veramente Non mi capacito di ciò che tu stia dicendo qua Perché Eh no Ho visto una tv E c'era Un tipo Pensavo fosse te Eh non sono io assolutamente Come ti permetti di Di incolparmi di cose che io non sono Andiamo in vacanza Cosa vuol dire andiamo in vacanza? Sono gli sconti Ma sai che ti ho visto comunque Ah 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 Vai Brucia Eh Ma è bello che adesso non si può aprire Mario cosa facciamo? Ci stiamo friggendo Aiuto Guardami Sto morendo Bene No Stiamo vivi Guardami Eh dice che hai problemi In questi posti Ah i problemi qui Da per tutto Come è possibile Mario vai da un osteopata Fai qualcosa Sono alto Comunque si vedo Sei un figlio Mio Allora andiamo No che schifo Nessuno vorrebbe averti Scherzando Che cattiveria Comunque Ma perché stai Bisbigliando così? Sono diventato grande adesso Eh sì Ma non bisbigliare mai più eh Maledetto Ma sei per concentrazione Eh ma sì esatto Infatti concentrati Adesso tocca a me Eh No Sì tocca Cioè tocca a me cercare Quindi vai a nasconderti Io intanto Vado da questa parte E così non ti vedo Così posso guardare Tipo i bellissimi palazzi Tipo Ah la raga Cos'è che c'è Brookhaven shelter È molto bello questo shelter È È molto bello questo posto Però È brutto per nascondersi Nih nih È brutto per nascondersi Non mi interessa niente Tu nasconderti Veloce Ho fatto una faccia Veramente orribile Chiedo scusa Non c'è nessun posto Alza Il volume è nella testa Mario Sto volume Oh Ok quindi Dimmi un po' Dammi un consiglietto Pizza C'è proprio Perfetto Sto consigli C'è consiglio più perfetto Di questo Ok quindi sei in una pizzeria Per forza Eh ma sì Ma tu non mi puoi trovare Perché è una cosa Un po' più difficile No Perché sono invisibile io Ah sei di nuovo In un posto invisibile Allora dovrò cercare No no Non è solo pizza È mele Banane Gelati Ma è tipo un supermercato Quindi Eh forse Allora Ti ho visto dalla finestra Ok sì ho capito dove sei Si chiama Gruppo Vero? Mi sa Sai che si chiama Gruppo Non lo so Ok si chiama Gruppo Andiamo qua dentro Se tu avevi detto pizza Vuol dire che sei No aspetta No scherzavo Sei Ah Mario Ciao Comunque guarda che Ti mimetizzavi benissimo Sì Eh sono tutto nero Guarda qua Ero messo qua Ma è pazzesco Cioè per un attimo Non ti stavo trovando Bene Tocca a me Nascondermi Non guardare Cattivo Se guardi Ah vado via Ti blocco Su whatsapp Anche se vabbè Adesso Invece mi sto nascondendo Ovviamente E Sì sì Però stavolta Mi nasconderò in un posto Cercherò di nascondermi In un posto più originale Però in realtà Non è che mi stia venendo Proprio bene in mente Dove nascondermi In un posto originale Cerca qualcosa Quindi Vorrei nascondermi No come ti permetti Di registrare Dunis Guarda che Ok però ho capito Dove Ok perfetto Sono in un posto Dove tu Diciamo Allora diciamo Sono al chiuso Ed è colorato Chiuso e colorato Sì E ricorda vagamente Fall Guys Il gioco Che tutti quanti Ci stanno giocando Strumble Guys Forse Lo scivoletto Qua Ops Ti faccio il video No dai Che schifo Perché mi stai Quella è una lanterna Che caspita è Scusa No è Ah è una videocamera Va bene Io invece adesso Mi nascondo No ti nasconderai tu invece Ma che pizza Veramente Questa cosa È veramente odiosa Comunque Non ti sopporto più Guarda Brooks Dinner Stiamo mangiando la pizza Ma siamo da scuola Sì però Non dirmelo Stupido No però Dove è la scuola È lontana No non lo so Era un inganno Ah ok Io intanto mi mangio Si posso mangiare Eh sto mangiando Sto mettendo Che figata Stai Allora Guarda ti sto Ti sto per fare male Ti giuro Su Roblo Sono pronto Ok bene Adesso guarda Ti faccio venire io La voglia di prendermi in giro Dove sei finito Eh Mostro Vai consigliami tutto Allora Eh Ce ne è uno Grande Uno piccolo Cosa vuol dire Mario Cioè io pensavo direttamente Alle cose che non si possono dire Invece Ce ne vuoi uno Un po' più grande Uno un po' più piccolo Ma cosa Dico Cioè Non è molto Consiglio Ah ok Di consiglio Ok sì Allora Medio Medio Eh Sicura delle persone Ma non sono dentro Ok Minchia Mi hai detto praticamente tutto Vabbè Va bene così Allora Però ti ho detto Che non sono dentro Quindi però So io dove sei Quindi potrei essere vicino Io sto vedendo un'altra arena Che però si muove Potrebbe essere Prima ci sono andato Ok quindi non c'entra l'altra arena Bene Allora Ah ma posso anche correre più veloce Che stupido raga Shift Sì infatti Però So Mi vedo Eh lo so che mi vedi Però Tu non vedi ma No non ho ancora Però io so Dei segreti Praticamente di sto posto Allora Tu sto Sì non ti preoccupare Che so io dove sei Allora Me l'ha fatto vedere Brid la flea Che è un altro nostro amico Stai un pochino Sbagliando strada Oh come ti permetti Adesso Adesso Dai che pizza Adesso arrivo Non ti preoccupare Che adesso Sono proprio qua che sto Guarda Focherello Ma tu Cavolo Dove sei finito Acqua Madonna Quanto ti sto odiando Acqua Adesso Acqua Acqua Cosa vuol dire Adesso Acqua Oh allora Dai zitto Adesso Adesso Guarda Ti troverò sicuramente Non ti preoccupare Comunque Sei qua forse No Oceano Madonna Ti sto odiando Perché prima avevi detto Focherello Oceano Di luglio universale Ma tu mi stai vedendo Adesso Non più Ok Adesso Adesso No sei Comunque No dai che pizza Non è giusto Dove sei finito Adesso mi vedi o no Sì Però sei Lì è mare No scusa Non è possibile Ma sei Sei all'ospedale Pro Focherello Ah ok Ok quindi mi sto È dall'altra parte Dai che schifo Guardalo Che schifo E sei qua Eh ti vedo bene Mi vedi bene Però non sei Cioè Ma che cavolo No Mi sto distante No ma dove sei Ma forse Sono un po' impossibile Forse qua No Infatti sei un po' Infatti sei un po' Ti do l'indietro Sono all'interno Ah sei all'interno di un palazzo Ah ho capito Ho capito Quindi Fuocone Incendio Però non è possibile Incendio Incendio E fuoco Focherello Ma io dovrei vederti adesso No Sei di là No Ok quindi Ma tipo tu sei Compenetrato con una cosa Ma dove Cavolo sei finito Ah ecco Madonna Mario Ma era impossibile Oh Ti dico Prima ero qua Ti mostro Ero Qui così Ah ah Poi quando ho visto che stavi entrando Eh certo no Certo E' qualcosa di più impossibile no Vabbè però Allora Facciamo così Penitenza per Mario nei commenti Perché veramente è difficilissimo Scrivete nei commenti La penitenza che dovrà fare Che veramente Cioè che schifo Cioè veramente Una punizione da fare per Mario Assolutamente Eh veramente Hai trovato abbastanza in fretta Sì dai più o meno Però comunque Punizione lo stesso Perché mi sei stato antipaticissimo Fammi lì Tu lo vedi Molto c'è stato il palco Sì Sì Ti do un po' di Eeeh Eeeh Cabbo No aspetta cosa sto dicendo No 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 Mi dissocio completamente Sto scherzando Posso fare La morte Come si fa Nessuno vuole vedere la tua morte E se Si fa così Spero che cosa stai facendo Raga E' stupido Vabbè Noi Ricordatevi di lasciare questi commenti Ecco Sono morto Ecco bene Però non basta Altra penitenza nei commenti Mi raccomando Dove soffrire bene Su Roblox E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao